Non piace all'altro pensante, all'altro pensante di civiltà e di conseguenza l'altra parte ci vede come nemici. A quel punto secondo me non è più onesto, cioè dal mio punto di vista si sta barando al gioco, perché non è più corretto individuare nel giornalista il target o il nemico, perché il giornalista per definizione non ha gli strumenti per difendersi, non è un militare, non è equipaggiato, non è addestrato, è troppo facile, è esattamente come sparare sulla croce rossa. Quindi stiamo andando incontro a un mondo, come si dice giustamente ad esempio della Siria in Parese, che da un momento all'altro, senza apparente motivo, fa scoppiare un bupone, diciamo, una crisi che è talmente confusionaria e ci sono talmente tanti le parti in causa che si fa fatica a comprenderla, si fa fatica a capirne l'inizio e soprattutto come se ne vede la fine, perché il conflitto sireano non si vede come può conclutersi o evolversi, ecco. Questo per cercare di dare una risposta insomma. Ma invece, per quello che riguarda l'esperienza comune, il Kosovo è comune a cui lavoravamo negli stessi momenti lì, ma a Bali ci siamo incontrati. A Bali, per la percezione della mia generazione, è un luogo di fuga, si parte da Urbino, un ragazzo parte, va a Bali, si trova benissimo, un iso, un paradiso. Improvvisamente anche Bali, dopodiché il sovrannato, diventa un inferno. Ecco, lo stato attuale qual è? C'è un rasserenamento e Bali è tornato in parte quella della nostra, oppure è un luogo come lo Yemeni di cui non vuoi essere preoccupato? Ascolta, da un momento all'altro, pochi giorni fa ci sono tanti due attentati con Kamikaze un'esercizio in Indonesia vicino a Kamikaze. Quindi, Bali potenzialmente è un luogo che, mi spiace dirlo perché non si avrebbe, diciamo, il turismo balinese che con gli interni rappresenta una percettuale molto alta, però Bali è un altro luogo che è un luogo che è un luogo